La riunione come si poteva dimostrare ha avuto esito negativo, nel senso che abbiamo ancora richiesto la possibilità di fare dei tavoli tecnici plesso per plesso. Ci è stato riconosciuto, ma in realtà loro dicono che vogliono fare prima il passaggio di appalto e poi fare i tavoli tecnici. Questo a noi non ci convince e non ci soddisfa il semplice fatto che abbiamo atti formali che ci possono consentire di migliorare le condizioni dei lavoratori. Discutendo dell'organizzazione del lavoro, sempre confermo e confermiamo rispetto all'utilizzo dei criteri dei lavoratori che passano con le polizie, criteri dei lavoratori che passano per l'ausiliariato, il monte ore che si utilizza per le polizie e il monte ore che si utilizza per l'ausiliariato. Nel frattempo accettiamo il confronto che ci sarà domani mattina con Ariete e domani pomeriggio con la Dusman e confermiamo l'incontro che ci è stato concesso dal direttore generale dottor Squillante il giorno 2 alle ore 17.30.